Ciao ragazzi, qualcaaaar, qui benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qui con ZIFI Ciao Oddio Ok, questo non era in programma sicuramente Non cassa questo Eh no, sono solamente... Che devono essere, scusami Oh porco No no no, sono morto Vabbè, mi aspetti Appunto, questa è che era l'ultima opportunità Tanto parliamo e tu vedi O2ZPUSGXDXD Besta è un Gesù Cristo C'è uno che si chiama OVIPASCO E' dietro, dietro IME CARE 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 Non muore, non muore, non muore, non muore bro What the fuck? Uuuuh, conti Vai 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 Uuuuh Buoy watcho Dietro Ma avete fatto Ali? No no no, non abbiamo fatto niente, non sanno io chi sia Oh ciao ragazzi, ciao E perché non lo speccano? Non lo so, non chiedermelo, stanno prendendo le cose Allora Allora, sto ragazzo, sto ragazzo, per favore di Ok aspetta, lui adesso dovrebbe prendere un po' di danno, eccolo Oh, ha finito la speed Ha finito la speed, ha finito la speed Eh no, no, c'era la speed Ah, ok Buuuuh Ah sì, era la speed Questa è roba di perdere Vai Disa, vai vai, uccidilo, uccidi IME! IME! Sto laggando, sto laggando, sto laggando, non hai visto che gli ho tirato la puzza in faccia perchè ho finito troppato? Lai dopo il puttato IME! 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 IME, IME! 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 Got birdies in my band, don't chirpin' IME, 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 IME! IME, 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cosa? GG's Raga, è appena entrato Vabbè dai, non è andata male